Fabiana Pastorini, vittoria sulla carta agevole contro Pescara è arrivata, ma soprattutto la notizia è che siete da sole in testa della classifica. Sì, la partita sulla carta era una partita facile, anche se comunque il Pescara ha pareggiato con la Roma e quindi siamo state sempre con i piedi per terra. È una partita che ci ha portato al primo posto da sole in classifica, anche grazie al pareggio del Montesilvano con la Ternana. Ora dovete proseguire su questa strada, non deconcentrarvi perché comunque il calendario tra poco dirà Virtus Roma e Montesilvano e anche Lazio. Sì, adesso ci sono le partite più importanti del campionato e le abbiamo tutte in fila tra Virtus Roma, Lazio e Montesilvano come hai detto tuo. Dobbiamo stare super concentrate, attenti a non sbagliare, a fare un'ottima difesa e a partire con il nostro asso nella manica che è Gimena Blanco. Senti, per chiudere, domenica sempre sulla carta, l'impegno sembra facile contro il Real Sorrento, è veramente così? Tu che le conosci? Io le conosco tutte, sono tutte mie amiche di infanzia perché sono tutte di Napoli, anche io sono di Napoli. È una partita sulla carta facile, però come sappiamo ogni partita è a sé. La partita contro il Sorrento è una partita un po' difficile perché loro sono tutte molto aggressive, cattive come gioco, intendono come persone. Quindi bisogna stare comunque sempre attenti.